Allora, voglio dirti come è andata ieri al webinar, che è stata la prima serata delle due serate, la prossima sarà stasera, su risolvere i conflitti. È stato molto bello, è stato molto bello perché c'è stato proprio lo spazio per aprire le tematiche relative allo studio della mente reattiva, perché la mente reattiva è il problema fondamentale di tutti i problemi, ok? Se vuoi risolvere i problemi devi occuparti della mente reattiva. E quello che è saltato fuori, che mi è balzato molto all'occhio e che mi piacerebbe riportare qui è che si pensa di sapere sulla mente reattiva perché si sa, in qualche modo si intuisce, si sente, si percepisce tutti i giorni che c'è qualcosa che non funziona. Ma un conto è questo sentire, un conto è studiare, capire e avere un metodo per risolvere la mente reattiva. Questo è il punto. Perché solo sapere e sentire e fare le proprie battaglie quotidiane non ha nessun senso, perché è come lottare contro un titano, contro l'Everest. E' una cosa assurda. Se invece cominci a applicare un metodo, a studiare, a capire come funziona, come fare i primi passi, allora inizi a sgretolare piano piano la mente dalle sue fondamenta. E piano piano, piano piano, lentamente, gradualmente puoi sgretolare la mente reattiva. Questo è stato il fatto, cioè che c'è stato grande entusiasmo sul cercare di comprendere come funziona la mente reattiva e come si può discreare la mente reattiva. Quindi io ti invito, questa sera se vuoi, a salire a bordo della seconda puntata di questo workshop in due incontri, dove parleremo ancora di risolvere i conflitti e questa sera ci occuperemo prevalentemente proprio delle relazioni. Ti aspetto presto. Se vuoi partecipare, clicca il link qui sotto e entra a far parte di questo workshop bellissimo. Ci vediamo alle 8.